Oggi fuori piove e ci sarà una seduta di allenamento qua nella struttura polivalente al coperto comunemente chiamato il pallone. Dopo saranno consegnati i kit sia per i giovanissimi che per gli allievi, tutti allineati i borsoni che hanno il relativo numero di identificazione, ogni numero identifica un ragazzo, lo consegneremo al termine degli allenamenti. Qua in fondo c'è Mr. Gabriele e Mr. Giovanni che sta tenendo rapporto ai ragazzi giovanissimi e allievi. Che siamo veramente in un altro livello, perché se faccio segno in gioco a dimostrare questi valori qua, per me vale più di una vittoria e penso che è benissimo, vale più di una vittoria. Così come siamo diventati bravi, adesso da questa parte i giovanissimi con il Mr. e da questa parte arriviamo fino a dove stanno i giletini qua e facciamo 15 minuti, 12, 13, 14 minuti di riscaldamento come dietro a noi, ok? Tutti gli allievi si mettono tutti quando di la casa e i giovanissimi restano così, ok? Perché poi quando giochiamo facciamo i vari di riscaldamento, dai, giovanissimi di là e gli allievi di qua. Ecco da questo lato si stanno posizionando i giovanissimi di Mr. Giovanni Di Giulio, mentre a quest'altro lato c'è gli allievi di Mr. Gabriele Di Felice con le casacche bianche, ecco max, abbiamo pure con i best, abbiamo pure il nostro, tutto a posto, facciamo due file, due file, gli esercizi li facciamo uguali. Cominceranno con gli esercizi di riscaldamento, oggi proprio al coperto perché fuori il tempo è inclemente, il terreno di gioco è molto allentato, qua invece stanno un po' più a calduccio, ecco cominceranno a fare gli esercizi di riscaldamento, gli esercizi di riscaldamento, tutti ordinati come bravi soldatini, di riscaldamento, tutti ordinati che vengono a fare gli esercizi di riscaldamento, tutti ordinati come bravi, tutti ordinati, come bravi, confronto, tutti ordinati come un A questo lato con le casacche bianche ci sono gli allievi di mister Gabriele, mentre qua ci sono i ragazzi dei giovanissimi di mister Giovanni. La seduta di allenamento è iniziata adesso, adesso stanno facendo i classici eserciti di riscaldamento. La seduta di allenamento è iniziata. La seduta di allenamento è iniziata. Grazie.